Buongiorno, benvenuti a questa rassegna di oggi 10 giugno. Guardate, sui giornali è successa soltanto una cosa, in realtà noi parliamo di un sacco di cose, ma l'unica cosa che è successa sui giornali, che dovremmo commentare strepitando, è quello che ha detto una delle scienziate, secondo loro, più importanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè che coloro che sono asintomatici non trasmettono la malattia o la trasmettono con grandissima difficoltà. Ragazzi, vi rendete conto che cosa hanno detto? Cioè noi abbiamo quelli dell'OMS, che prima ci hanno detto che servono le mascherine e poi non servono le mascherine, prima servono i guanti e poi non servono i guanti, toc toc! Tutte le aziende che hanno comprato i guanti hanno obbligato i loro dipendenti a mettere i guanti, oggi che cosa fanno quando l'OMS dice che non servono i guanti? E ancora, se gli asintomatici non danno il virus, non cacciano il virus, ha ragione oggi Gramellini, che dice, ragazzi, speriamo che sbagli questa signora, lo dice in maniera sarcastica, perché se così fosse, cioè che gli asintomatici non portano il virus, abbiamo chiuso il mondo inutilmente, chiudiamo i sintomatici, non gli asintomatici, e comunque questa non è una follia, è una cosa che qualcuno pensava e cioè diceva, ragazzi, se c'è un problema con il virus, cerchiamo di isolarlo, tamponiamo, vediamo chi ce l'ha e teniamola a casa, come avviene per tutte le malattie infettive, non chiudiamo il mondo! E oggi io scopro che gli asintomatici, lo dice una dell'OMS, quindi qui abbiamo due possibilità, o chiudiamo l'OMS, però se lo fai, se è Trump, se è un delinquente, tutti ti bastonano, oppure pensi che sono veramente dei cazzoni! Non basta, il quotidiano nazionale oggi dice controordine, asintomatici, innocui, e Massimo Donnelli giustamente dice non dobbiamo più ascoltarli, semplicemente non possiamo più ascoltarli, però se non ascolti loro, chi ascolti? Ascolti Burioni? Ascolti Zangrillo? Chi è che ascolti? Non ascolti nessuno? Conte, per carità, quello che diceva, prima di non chiudere, poi di chiudere, poi ha chiuso troppo, forse io qualche tema di ascolto ce l'avrei. Altra notizia sul virus, poi ci chiudiamo, perché è una roba che mi fa venire il sangue al cervello per quello che abbiamo perso, speso e compromesso in termini di libertà per questo virus che sembra che adesso gli asintomatici non trasportano, la cosa che tutti quanti noi avevamo detto, ma anche lì siete dei sovranisti, siete dei suprematisti, io feci una puntata di Quarta Repubblica dicendo le cose che oggi leggo sull'Harvard Review, riportata dai giornali, ma non è sufficienza, se non la stampa, pagina 2 e pagina 3, che a Wuhan c'era la stessa occupazione degli ospedali tra settembre e ottobre, come se, dicono in maniera induttiva gli ricercatori di Harvard, già in quel momento ci fosse qualche epidemia strana che loro non hanno raccontato al mondo. Ad agosto, a ottobre, e noi siamo ancora qua che stiamo a pensare quanto sono bravi i cinesi che ci hanno dato... ma vi è chiaro? Io non penso che abbiano fatto un'arma batteriologica, non sono complottista, però nei confronti di un regime comunista e un regime dittatoriale nei quali noi non ci sconvolgiamo mai, perché il problema sono soltanto gli americani cattivi di Trump, mentre Xi è una specie di angelo, se scopriamo che questi sapevano del virus già a ottobre, forse qualcuno potrebbe farsi delle domandine. Il Corriere della Sera decide di riaprire in maniera, come spesso avviene in questo momento, asintomatica sull'Europa, riaprono i confini, Grecia e Austria, sì, agli italiani. Soltanto il giornale unico del virus, quello di Sarzanini, quello del Corriere della Sera e quello dei giornali pre-Covid, cioè pre-fine del Covid, si è molto stupito del fatto che Grecia e Austria aprissero i confini, non li aprivano perché noi per prima avevamo dei dubbi con i Solinas, con i De Luca, con i Musumeci, con i Rossi ad aprire i confini ai Lombardi, se le regioni italiane non aprono i confini ci stupiamo che non lo aprano Grecia e Austria, poi si saranno fatti i quattro calcoli e avranno capito quanto vale il turismo, cosa che forse i nostri presidenti se ne sono accorti relativamente, ma loro avranno le regioni Covid-free e arriveranno da loro i fondi pensione russi, bravi, complimenti, arrivano i fondi pensione russi e mi piacerà vedere allargata questa nostra platea di turisti perché siamo riusciti ad avere il marchio Covid-free, chissà se il Covid-free poi sarà un marchio così di valore nei prossimi mesi, comunque su questo entra il Corriere della Sera, invece Repubblica apre sulla beffa della sanatoria, la Belanova la difende, vista che è la madre e la madrina di questa sanatoria, quella che vi ricorderete prevede la regolarizzazione degli immigrati che trovano un lavoro, ma c'è un piccolo problema che per regolarizzare queste persone servono dei soldi che devi pagare, oltre che dei contratti che devi dimostrare e questi soldi in realtà in questa fase agricoltori, datori di lavoro nelle case non ce l'hanno, non è proprio il momento migliore per le sanatorie, tant'è che dice nonostante tutto quanto il Repubblica, smettendo le paure delle chisti, arriverà un'onda di neri che vogliamo regolarizzare, smettendo anche il buonismo della sinistra che ci diceva, così avremo finalmente delle persone che non saranno più i piedi nel fango, 9500 persone che sono state regolarizzate, cioè zero peanuts rispetto evidentemente a tutti i clandestini, si può dire ancora così, che sono qua, insomma le solite tempeste in un bicchier d'acqua e semplicemente come tante delle norme di questo governo non sono attuabili, non sono realizzabili, servono a nulla, oggi sulle 24 ore ne racconto un'altra, il famoso reddito di emergenza, ve lo ricordate che dovrebbe andare a quelli che non hanno alcun sussidio, oggi scopro sulle 24 ore che quelli sono al carissimo amico, non sono riusciti a darlo a nessuno, 67 mila persone con reddito di emergenza che aveva postato a bilancio un miliardo, quindi gli diamo il reddito di cittadinanza, gli diamo le pensioni di invalidità, gli diamo tutto pochissimo, tutto da sfigati, tutto che non riesci a campare, tutto che devi trovare una cosa, il reddito di emergenza e poi l'aiuto, questo è il paese degli aiuti, dei micro aiuti che sembrano ai politici che possono stare lì a farti un favore e ai burocrati che ti concedono un po' di ora d'aria, nel frattempo siamo guidati da gente come Alcuri, l'uomo che ha deciso, in un'intervista dell'annunziata che non capisco perché la gente lo abbia ripreso a suffigenza, ha deciso a un certo punto a chi dare la vita, a chi toglierla, Alcuri, un bestemmiatore, a chi dare la vita e a chi toglierla, manco capito, veramente è una cosa di chi perde il contatto con la realtà, l'altro, Mimmo Parisi, quello dell'Ampal, l'altra genialata di questo governo, l'altro Trinico, il capo dell'Inps che si trova nell'Inps a dover gestire effettivamente una cosa mai gestita e che ogni giorno all'Arcuri ne dice una buona, una cattiva, una giusta, un'altra, una bassa, ieri ha detto che le imprese erano egoiste, pigre, le imprese pigre, cioè Trinico, che cazzo ha fatto nella vita per poter dire che le aziende sono pigre, i 5 milioni di italiani sono pigri, è come i bamboccioni che dicevano i professori universitari, che è che disse bamboccioni, i ragazzi italiani sono ciusi, sono bamboccioni, cioè non hanno voglia di fare, loro che hanno avuto il posto fisso a 18 anni, erano Tommaso Podasco, che è un compianto, e Fornero, ministro che fece la riforma della Ciusi, i bamboccioni, le imprese pigre, sempre gli altri sono pigri, eccetera, poi c'è la tua cattedra universitaria, Trinico, fai il presidente dell'Inps, tutti pigri, ma oggi ha capito di averla fatta un po' grossa e a sole 24 ore il giornale degli industriali dice che facciamo con poca e scarsa pigrizza in suo ufficio stampa, dice parla sul giornale dei conflitti industriali e dice nelle prime tre righe, in questa lettera, non un'intervista, che il sistema produttivo italiano, fatto da piccole, medie e grandi imprese, in questo elenco piccole, medie e grandi imprese, sono straordinarie, vabbè, ci poteva pensare l'altro giorno. Poi la vicenda fondamentale di questi giorni che si intraccia è stati generali, quelli di Luigi XVI, Conte, Churchill, peccato che Churchill gli stanno abbastando le statue in Inghilterra, e il piano Colao, è il piano e su questo c'è da molto da dire, perché ne stanno parlando un pochino tutti, e su questo piano, partiamo dagli stati generali, sarà lungo dieci giorni e Conte chiama tutti, sostiene il fatto che chiano dieci giorni di stati generali, noi qua stiamo discutendo dieci giorni di stati generali, Belpietro dice, in fondo c'è anche ragione la Meloni quando dice che gli stati generali già ci sono, è nel fondo di Belpietro sulla verità e si chiamano Camera e Senato, conoscendo molti dei parlamentari di Camera e Senato, voglio dire, non so se sino meglio di Fucsas, di come si chiama, Farinetti, quello che voleva la tassa dell'otto per mille di Amato da riproporre per fare un po' di cassa in questo momento, Piano che è già peraltro il Senato come senatore a vita, pur non essendoci si è mai presentato, allora io mi chiedo, è giusto avere degli stati generali con Piano che è considerata una delle grandi intelligenze quanto quegli stati generali ci sono e ha ragione la Meloni e Belpietro e contengono lo stesso Piano, ma al Senato non va mai, nonostante l'ufficio a lui dedicato, mentre agli stati generali la comparsata la fa, questo è il paradosso di Piano, cioè che si fanno gli stati generali per buttare, comprare tempo e ha perfettamente ragione Belpietro, Sorgi dice, il giornale dice, si accorge e anche il Sorgi sulla stampa e che poi questi stati generali sono stati fatti per una cosa soltanto per escludere Colao, lo dice Sallustri sul giornale e lo dice anche Sorgi come si, Conte si prepara a seppellire Colao con gli stati generali, ma che ha fatto sto Colao di tanto male? Beh, devo dire che c'è una cosa che è molto convincente che ha scritto Cerasa per differenza sul foglio, dice che il fatto che la Mazzucato, una specie di chinesiana comunista, comunista nel senso tecnico del parola, cioè del 2020 ovviamente, del nuovo secolo, del nuovo millennio, la comunista Mazzucato si sia stenuta da firmare il piano ci porta a pensare che ci sia qualcosa di buono nel piano, devo dire che so che questo è un brutto ragionamento fatto al contrario, non mi appartiene, però questa cosa che dice Cerasa un po' la condivido, poi Cerasa dice un'altra cosa al contrario, siccome questo piano piace molto a Salvini, per delle cose ottime di questo piano dico io, questo dimostra non che il piano sia sbagliato in quel caso, ma che Salvini sia un cazzone perché non sa fare l'opposizione e su questo non riesco a capire la consecuzione logica, però lasciamogliela a Cerasa che sappiamo che non piace, a cui non piace per niente come si chiama Salvini. In realtà Sallusti dice che il piano è nato morto perché non lo vuole Conte, non lo vuole il PD e non lo vogliono i grillini e Colau è a picco, secondo tutti quanti, perché proprio contiene delle cose che non sono gradite a questa maggioranza e che deflagrano in questa maggioranza. Intervista del Benetton che dice questo piano mi piace, ci piace ad esempio perché allunga le concessioni e ci obbliga a fare più investimenti, pensate un po' voi se questo è un via libera al piano, l'ok del Benetton. Cottarelli sulla stampa dice le cose del piano, la prima cosa dice ma perché chiamano sempre questi tecnici e poi quando i tecnici danno dei consigli dice è un déjà vu, poi questi tecnici vengono buttati a mare, devo dire che effettivamente è piuttosto strano. Poi parla degli 82 su 102 punti di questo piano che hanno bisogno di soldi pubblici e dice però questo è un problema perché non l'hai previsti, poi dice che è troppo generico sulla riforma della giustizia perché dice se non riformano la giustizia, gli appalti e tante altre cose non si sbloccano, gli stessi che volete sbloccare e poi dice essere contrario al condone fiscale che di fatto prevede questo piano che è solo un condono dei soldi all'estero portati d'Italia e che tutti, devo dire, i governi hanno provato a fare e che non si fanno mai. Dall'altra parte Feltri si arrabbia perché questo piano prevede sul libero che l'uso dei contanti sia ridotto, insomma c'è tutto il contrario di tutto nel piano, c'è delle cose sicuramente buone, c'è qualche idea ma la cosa che è certa è che Colau questa roba non la vuole sentire, non la vuole vedere e secondo tutti gli opinionisti di oggi farà questi stati generali per 10 giorni per fottere Colau che è stato nominato da lui presidente di una commissione che si sarebbe dovuto occupare del rilancio e tra le altre cose del rilancio dice rimandate le imposte che stiamo per pagare tra 5 giorni, io penso che questo sia un paese di pulcinella e oggi converrebbe non esserlo visto che c'è gente che più che pulcinella sta in mezzo a strade a cercare come sbarcare il lunario. Intervista a Giorgetti oggi sul messaggero in cui dice che non si andrà a votare anche se il governo cambia a settembre e a domanda precisa che succede se cade il governo, beh ci penserà la provvidenza. Risposta insomma che sembra un po' come quella di Prodi quando disse come fate a sapere di Gradole e lui disse lo abbiamo scoperto in una seduta spiridica. Ecco diciamo Giorgetti come Prodi, la previdenza secondo me c'entra molto poco in quello che succederà nella politica italiana, l'ultimo scandalo sono queste statue che vengono gettate e buttate in questa follia soprattutto inglese di rivedere il passato che parte dagli Stati Uniti che partì contro Cristoforo Colombo e arriva contro Churchill e tanti altri personaggi considerati razzisti, addirittura Gandhi mi spiega Mattia Feltri viene considerato da alcuni razzista e quindi vogliono togliere le statue di Gandhi in Inghilterra perché Gandhi a un certo punto ce l'aveva contro i servetti sudafricani, non so non mi ricordo bene. Robert Mulligan ricorda il Daily Mail come schiavista addirittura non viene tolto dai manifestanti ma dal sindaco dei sindaci di Londra e dai capi dei quartieri vengono tolte ufficialmente le statue e dice giustamente Alessandro Gnocchi ragazzi distruggiamo il Colosseo tra poco perché lì facevano le gare tra schiavi e molti di questi morivano. Siamo nell'impazzimento collettivo. Il passaggio tra Mirta Merlino a cui voglio sempre bene che si mette in ginocchio per Floyd e al passaggio per le Sardine che arrivano a Piazza del Papalo che si mettono in ginocchio per Floyd ma anche per lo Iussoli a questi deficienti dei nostri politici che cancellano le statue è brevissimo. Cioè siamo un popolo non senza memoria ma un popolo che cerca di applicare i canoni di oggi al passato. Questo si chiama Orwell, ve lo ricordate di che cosa si occupava? Orwell è il giornale unico degli ultimi mesi ma anche l'idea che si possa cambiare il nostro passato raccontandolo diversamente. Churchill, Cristoforo Colombo, chissà che ne pensa Conte di Churchill e delle sue state. Altro non c'è, vi do appuntamente sul sito di colaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao.